I rappresentanti dell'Associazione Domos, Rosa Viola e Antonio Lombardi, sono stati ascoltati in quarta commissione in merito allo stato di attuazione della legge sulla donazione delle cellule staminali. È stata sollecitata, da parte di Viola e Lombardi, la corretta e completa attuazione della legge regionale numero 28 del 2007 sull'istituzione di un registro di donatori di cellule staminali e sulla regolamentazione e organizzazione della rete di raccolta. Secondo i rappresentanti intervenuti in commissione, questo servizio non funziona come dovrebbe, anzi essi rilevano e denunciano inerzia, nonché diffusa carenza di informazione. L'Associazione Domos, che dispone di uno spazio informativo presso l'ospedale San Carlo di Potenza e assicura il proprio sostegno alle potenziali donatrici di sangue cordonale, chiede più collaborazione e trasparenza. Viola e Lombardi hanno fatto presente, altresì, di non essere mai convocati nei tavoli tecnici sull'attuazione della legge. Grazie a tutti.